Cambiamo argomento. A proposito della realizzazione dei parchi nel comune di Spoltore, anche qui c'è stato un problema con le traversine. Com'è finita? Credo che sia finita abbastanza bene. È finita con una soluzione che sostanzialmente va nell'interesse della collettività e anche della salute pubblica. Fermo restando che è opportuno fare chiarezza per tutta la collettività, i cittadini spoltoresi e non solo, che poi fruiranno di questi parchi. Stavamo parlando di traversine trattate al creosoto, ma non cancerogene, perché altrimenti avremmo dovuto bonificare il terreno. Quindi la prima direttiva del giudice era quella della rimozione perché ci poteva essere il contatto frequente con la pelle. Noi abbiamo impugnato questa prima disposizione del giudice proprio perché c'era un forte esborso economico da parte dell'amministrazione che è bene precisare che sarebbe stata l'unica a patirne le conseguenze perché non essendoci responsabili quindi il danno l'avrebbe subito. La collettività è per essa l'amministrazione. Allora noi abbiamo presentato un progetto di mitigazione in cui sostanzialmente il parco viene messo in sicurezza e cioè viene eliminato questo contatto frequente con la pelle. E di qui la soluzione appunto del giudice è di accettare questo nostro progetto e salvo appunto nei prossimi giorni già stiamo provvedendo alla fase esecutiva per poi poter riaprire finalmente la fruibilità della collettività a questi parchi. Fermo restando che poi ne aggiungeremo un altro che è quello posto alle scuole elementari, i cittadini di Spoltoro lo conoscono, in modo che potremo dare un'ulteriore possibilità alla nostra collettività di fruire anche di questi luoghi pubblici. È soddisfatto della sua giunta? Guardi, sono abbastanza soddisfatto. Sono convinto che possiamo fare ancora di più, che dobbiamo fare una squadra che viaggia tutta nella stessa direzione e questo lo dico con tutta la tranquillità perché nel rodaggio di questo anno e sapete noi abbiamo cambiato anche il sistema amministrativo. Noi siamo passati da un comune che si amministrava con la gestione di turno unico e significava che l'assessore votava pure in consiglio. Oggi essendo un comune che ha superato i 15.000 abitanti abbiamo votato con il sistema a doppio turno, ancorché io ho vinto al primo turno, però poi si amministra in modo diverso e cioè la giunta, l'esecutivo non vota in consiglio comunale. Per cui a volte magari c'è quella tensione politica del portare avanti una certa progettualità. Ma mi pare che dopo un anno di sperimentazione, come dire, le cose si stanno mettendo a posto, stiamo cercando di lavorare bene perché quello che ci deve guidare è il futuro e lo sviluppo di questa collettività che si realizza peraltro in quest'amore di lavoro di questo anno perché io non ho detto poi delle opere pubbliche che abbiamo previsto nel triennale già finanziate ma che insomma con intelligenza dovremmo mettere in campo perché purtroppo è bene che i cittadini sappiano con grande chiarezza che uno dei fattori limitanti oggi delle amministrazioni, ancorché la nostra è un'amministrazione virtuosa dal punto di vista economico, è il cosiddetto patto di stabilità. Il patto di stabilità che francamente è un cappio al collo per le amministrazioni perché pur avendo magari la capacità di spesa devono rientrare in alcuni parametri che impongono a volte di non realizzare opere pubbliche perché si esce fuori da questo patto. Uscire fuori da questo patto significerebbe una sanzione molto elevata che i comuni non possono permettersi. Quindi noi useremo l'intelligenza, la creatività anche amministrativa per realizzare tutto quello che abbiamo messo in campo. E guardate, non è poco perché nelle opere pubbliche che i cittadini conoscono sono previste strutture sportive, sono previste come dire l'exompi che è una parte sociale importante del territorio, abbiamo esperito la gara qualche giorno fa. Adesso con la ditta abbiamo preparato un piano strategico proprio per arrivare alla riapertura a fine anno, ai primi dell'anno del 2009, per poi proseguire in questa fase. Certo questo non entra in quel discorso di opere pubbliche, però è un aspetto importante che volevo sottolineare perché è una risposta di programma e politico importante perché è una questione sociale a cui tutti noi cittadini ci tenevamo molto. E quindi ci stiamo adoperando anche in questo senso. Però per quanto riguarda le altre opere pubbliche, a partire dalle scuole, come quella di Santa Teresa che abbiamo già previsto, come quella di Spoltore che partirà il prossimo anno, come le cosiddette piazze, la ristrutturazione dei marciapiedi che noi abbiamo messo in campo e abbiamo finanziato. I cittadini, ecco, abbiano un po' la pazienza, ci siano vicini perché noi tutte queste cose, quello che abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo finanziato, lo faremo, lo faremo come dire con i tempi dovuti, con la ragionevolezza del tempo, ma porteremo risultati concreti. Proprio perché credo che Spoltore abbia una sua già morfologia baciata dalla fortuna, perché noi possiamo godere sia della vista del mare che di quella della montagna. Il mare in cinque minuti e la montagna in mezz'ora. E poi è un sistema collinare, il nostro territorio, che in effetti, come dire, facciamo invidia a molti e noi dovremo creare proprio quello che stiamo facendo, cioè una città delle opportunità, dove la qualità della vita si conserva, ma allo stesso tempo si riesce ad avere una dinamicità della modernità. Questo è Spoltore, una città d'arte e di cultura che offre possibilità ai propri cittadini e non solo, ma si apre, quindi è uno scenario futuro e guardate, con qualche ambizione noi ci apriamo anche all'Europa, perché abbiamo grandi tradizioni da poter mettere in campo. Non a caso mi pare che la popolazione spoltorese sia in aumento. La nostra è una popolazione che cresce senza metterci niente di proprio, nel senso che proprio per la collocazione noi cresciamo di 500 abitanti l'anno. Quindi questa è una risposta di per sé della ricchezza del territorio, di come riesce ad attrarre, non solo per le questioni economiche, ma proprio per il tipo di qualità di vita che si fa a Spoltore. Chi viene a Spoltore poi ci resta. E questo per noi è un motivo di orgoglio. Ecco, io volevo fare una domanda, riagganciandomi a questo fatto che chi viene a Spoltore poi ci resta. Lei ha un feedback da parte dei cittadini? Sono contenti di questa amministrazione? I cittadini, devo dire con molta franchezza, sono abbastanza contenti, ma come è bene precisare, c'è sempre da migliorare. E quindi qualche richiesta c'è. Noi cerchiamo sempre di essere molto attenti, perché una buona amministrazione, la prima cosa che fa, si pone all'ascolto. Deve tradurre in concretezza quelle che sono le istanze. Ma credo che il nostro programma amministrativo, conciliato con quelle che sono appunto le stimolazioni che ci arriva dalla nostra collettività, sono abbastanza in sintonia. Fermo restando che un'amministrazione si assume anche la responsabilità, a volte, di scegliere il futuro pure in controtendenza. Perché sappiamo che poi magari i risultati, se non ci danno ragione oggi, ci daranno ragione domani. Però per chiudere, perché altrimenti sembrerei di non aver risposto alla domanda, dai dati che io ho, i cittadini sono abbastanza contenti di questa amministrazione. Una domanda personale. Essere il primo cittadino, dà più soddisfazioni o più oneri? Guardi, sicuramente non c'è paragone. Dà certamente più soddisfazioni. Vi posso garantire, proprio per le cose che ho detto, che una città come la nostra, che appunto cresce, che si sviluppa, e dà molte responsabilità. E d'altronde, insomma, non per declinare una mia figura in un certo modo. Però, insomma, io ce la metto tutta. Ho fatto una scelta di vita, così come ho detto prima della campagna elettorale, e qui ho dato seguito. Io mi sono messo in aspettativa del mio lavoro, e vi posso garantire che io entro la mattina qui intorno alle nove, esco per il pranzo, ritorno il pomeriggio, ed esco la sera normalmente intorno alle otto. Ascolto i cittadini, sono presente sul territorio. Ovviamente, sono una persona umana per cui ha anche i suoi limiti. Questo io non li metto in dubbio, lo lascio dire ai cittadini quali sono i miei limiti. Io alcuni li conosco di persona, però cerco di migliorarmi giorno per giorno. una cosa è certa, che quello che faccio lo faccio per il mio paese. Ringraziamo il sindaco Ranghelli, Cecilia Bombardi, tutto Abruzzo TV.